salve ragazzi oggi volevo spiegarvi questa cosa perché nei miei giorni scorsi mi faceva un po fatica a giocare nella mia posizione cioè questa qua praticamente quasi dritto sono leggermente dritto sto così ok ma mi sono messo se questo il centro del bersaglio mi sono messo leggermente più in là e tiravo così ok e ho notato che praticamente il centro la parte così tenendo il braccio in questo modo cadevo se il mio braccio cade sempre dopo più indietro no il mio braccio cadeva sempre perfetto stando in questa posizione invece che stare così che sono leggermente più storto il braccio mi va fuori invece stando in questa posizione ho sempre il braccio che va dritto e sbaglio molto meno quindi potrebbe essere una cosa importante no nel senso che mantengo sempre il centro del mio braccio anche se mi metto qui rimango sempre col braccio dritto ok così mi giro leggermente così ma sempre guardando il centro rimane il braccio sempre al centro del mio corpo qua quando lo allungo rimane sempre a metà capito così adesso mi sono spiegato provate no perché se tu sei dritto ti metto dentro detto così no io faccio questa cosa qua e faccio così sono praticamente quasi col piede dritto e sto così però ogni tanto il braccio mi si muove stando leggermente così il braccio è sempre perfettamente vado un po più indietro cade sempre perfettamente su questa linea sempre e quindi provate guardate giratevi leggermente calcolate ok col piede leggermente girato giusto un pelino piede fuori esterno il quello posteriore e rimane sempre lì anche se mi metto più in qua rimane sempre lì praticamente no quindi chiaramente se vado in qua devo girarmi il braccio rimane sempre su questa sul centro del mio corpo riflettete su questa cosa oggi video breve ma spero che vi possa essere utile saluto a tutti ciao 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 Grazie.